Le stelle di Azus Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus, l'oroscopo di venerdì 28 luglio. Ariete, con questo Marte siete voi ad essere molto aggressivi nei confronti degli altri, non accettate compromessi. L'amore vivrà una giornata piuttosto critica in cui non mancheranno momenti di tensione nella coppia, nuovi incontri focosi. Toro, i problemi portati da Marte riguardano la famiglia e la forma fisica, non esagerate con gli impegni professionali, limitatevi solo alle cose indispensabili, in amore avete bisogno di qualche momento di tranquillità, in serata meglio non stressarsi. Gemelli, la situazione sentimentale è molto stimolante, c'è un gran fermento intorno a voi, siete ricercati, è il periodo buono per trovare finalmente una stabilità sentimentale, solo le spese devono essere tenute sotto controllo e sul lavoro dovete essere prudenti. Cancro, questa luna pone l'attenzione sulla famiglia e la casa, forse avete lasciato in sospeso qualche lavoro e adesso dovete provvedere, l'amore sarà meno appagante, ma si tratta solo di nuvole passeggere, di base c'è un sentimento solido. Leone, sul lavoro avete tante possibilità, voi però presi da mille pensieri non riuscite a vederle facendovi sfuggire delle buone occasioni, anche voi avete bisogno di vacanze, spensieratezza e ora di mettere un po' da parte il lavoro e i progetti ambiziosi. Vergine, avete sempre grandi possibilità per imporre le vostre idee, per far approvare un progetto che vi affascina, Mercurio vi fornisce un'energia mentale invidiabile, sarete alle prese con impegni lavorativi che vi lasceranno poco tempo libero. Bilancia, una luna meravigliosa vi fa vedere tutto sotto una luce diversa specialmente in amore, ritorna un po' di ottimismo e migliorano nettamente i rapporti un po' in crisi, mentre non manca l'occasione di fare nuovi incontri. Ottime novità anche sul lavoro. Scorpione, questo Marte per voi è un sostegno importantissimo per la carriera, dovete mettere da parte l'indecisione e puntare con determinazione ad un successo, in amore questa luna crea un'atmosfera romantica, avete bisogno di sentire la vicinanza del partner. Sagittario, cercate di mantenere la calma e soprattutto lasciatevi coccolare dal partner, che magari non vi asseconda come vorreste, ma di certo ha molto da darvi. In questo momento siete incontentabili, ma certi rapporti, anche di amicizia, vanno difesi. Capricorno, una luna difficile vi creerà non pochi problemi in questa giornata che si preannuncia molto faticosa. Affrontate un problema alla volta ed evitate discussioni accese. In amore non tutto andrà secondo i vostri piani, non fatene un dramma. Acquario, la luna favorisce nuovi incontri, ma nelle coppie c'è attenzione. È un momento in cui bisogna testare certi rapporti e è inutile proseguire su una strada sbagliata. Ottime possibilità per chi è in viaggio, lontano da casa, ritrovate energia. Pesci nascono amori importanti sotto questo cielo, destinati a durare a lungo. Siate molto passionali e Nettuno vi rende incredibilmente romantici. Attenti solo a questa luna ambigua che vi mette in guardia da persone che non dicono tutta la verità. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna. Le stelle di Azus Le stelle di Azus